questa sera siamo al terzo episodio l'utilizzo di flutter evviva cosa vedremo questa sera vedremo qualcosa di più semplice bottone del semplice click vedremo le modali vedremo gli input di base per far questo creeremo un'app mobile ovviamente e per l'organizzazione dei nostri amici animali come vedete ho già creato anche un nuovo progetto l'ho chiamato pet organizer la prima cosa che facciamo ormai avete visto ultimamente che faccio cancello tutto peraltro non ho ancora lanciato la nostra magnifica app e in questo momento facciamo santo material app e basta e la lanciamo anche per vedere se bene o male qualcosa compila e magari funziona il check ancora non l'ho fatto quindi spero che che vada quello che andiamo a fare come al solito è quello di mettere il nostro hello world allora la prima cosa che andiamo a fare è qui creare un nuovo folder avrete capito mi piace dividere in pages che chiamo pages nient'altro sono dei widget e qui creeremo la nostra è il nostro primo widget eccolo qui perfetto enable data support ok ovviamente andiamo importare perfetto non però copertino ma material perché stiamo usando e il material ecco qui non screen andiamo sul main qui invece di metterci lo hello world mettiamo home screen benissimo qui ci mettiamo la consuetta virgola per formattare ecco qua così che vediamo un po meglio benissimo allora andiamo a fare un refresh mettendo il material app vediamo il placeholder il nostro classico placeholder no e qui se mettiamo il center che abbiamo visto più e più volte con il child text hello world almeno lo vedremo in centro benissimo in realtà qui mettiamo lo scaffold andiamo con lo scaffold eccolo qui ovviamente child non va bene abbiamo mettere body e andiamo a fare un refresh eccolo qua il nostro classico hello world allora siccome il debug non ve l'ho mai fatto vedere non mi piace di andiamo disabilitarlo eccolo qui mettiamo pulse e facendo questo se andiamo a rinfresciare benissimo il debug viene eliminato la prima cosa che noi vogliamo fare è quello di visualizzare la lista di dei pet ok quindi metteremo qui praticamente diciamo una list view in maniera orizzontale in modo tale che avremo la lista dei nostri pet ok quindi li metteremo qui in testata intanto una director che chiameremo models dove andremo a creare il nostro modello e il modello in questo momento non faremo tutta l'app quindi andiamo creare la gestione dei pet quindi class pet tra le varie proprietà che noi vogliamo del nostro pet ci sarà l'id anzi facciamo così prima mettiamo il name dopodiché avremo un daytime birthday ora il daytime non l'abbiamo mai visto il daytime è praticamente la classe che viene utilizzata da flutter e da dart per gestire le date dobbiamo dire che tipo di animale se un gatto se un cane se un uccello se un pesce ora noi prevediamo in questo momento quindi creiamo un enum l'avevamo già visto l'altra volta come si crea un enum noi andremo a creare un pet type in questo momento prevederemo cat dog e bird li lasciamo così quindi qui diremo pet type e metteremo type infine metteremo gender anzi andiamo prima a crearlo enum gender benissimo e quindi gender ora abbiamo queste quattro property possiamo usare il costruttore quindi allora in questo momento preferisco fare delle named property quindi fare un costruttore con le named property se qui metto this name ovviamente mi dice che devo aggiungere required dopodiché required this.birthday required this.type e required this.gender quindi abbiamo importato tutti quante le property però c'è una property che ci ritornerà utile che sarebbe l'id di solito quando noi andremo a invocare un servizio esterno di solito i back endisti ci danno un parametro che è l'identificativo ora questo identificativo non lo passeremo dal costruttore perché teoricamente viene già costruito da altri per noi quindi è soltanto in lettura in questo momento siccome non andremo a fare delle chiamate back end andiamo ad usare un'altra libreria quindi fermo tutto su pub.dev se cerchiamo uuid eccolo qui uuid serve per creare delle versioni di identificativi univoco e crea un guide in proche parole ora non vi ho mai fatto vedere ma su pub.dev potete cercare tutte le librerie e poi ci sono anche il riassunto di quelle più utilizzate ad esempio questa sera useremo anche intel però lo vedremo dopo intanto andiamo a a vedere uuid uuid andiamo a vedere l'installazione come vedete flutter pub add uuid quindi andiamo a farlo subito allora abbiamo importato uuid abbiamo installato e e dobbiamo importarlo andiamo a importarlo se ritorniamo nel nostro browser e ci dà l'esempio ci dice che dobbiamo importare questa questo package quindi lo andiamo a importare eccolo qua e quindi dobbiamo inizializzare l'id come facciamo? qui possiamo fare in questo modo se mettiamo due punti possiamo inizializzare i parametri che stanno sotto quindi in questo caso vogliamo inizializzare l'id possiamo fare uuid.v4 e non così uuid eccolo qui uuid.v4 supponiamo di voler inizializzare anche il name che magari non avevamo qui possiamo far una prova virgola name due punti è uguale luto come vedete scompare posso anche fare nelle classi pet.unanamed e qui cosa possiamo fare? possiamo fare più o meno la stessa identica cosa e quindi qui possiamo mettere name uguale unnamed ovviamente soltanto per farvi vedere ma questo non ci serve quindi possiamo tranquillamente cancellarlo ora qui vedete stiamo usando una classe supponendo di poterla riutilizzare anche in altri punti del codice possiamo tirar fuori l'uid quindi marcarla come cost e dire che uid uguale uid aperta tonda, chiusa tonda e possiamo riutilizzarlo qui andiamo a creare dei dati diciamo di mockup dei dati di test come volete chiamarli quindi qui potremmo chiamare una cartella che si chiama datas e qui possiamo creare il nostro file che chiameremo mypets facciamo una final list di pet e metteremo mypets facciamo uguale quadra quadra e qui andiamo a inizializzare i nostri tre animali allora sfrutto il mio caso ho tre gatti e quindi chiamiamo il primo gatto qui adesso vedete l'intellisense mi aiuta quindi il primo gatto è Simba nato il new date time e qui dobbiamo mettere vedete il primo parametro è l'anno quindi il mio primo gatto è nato nel 2021 luglio il 5 poi il type è un gatto infine gender è maschio e la data di nascita non l'avevo messa vedete la mettiamo così subito eccolo qui e quindi questo è il primo gatto vado a copiare perché tanto sono tre gatti quindi sono sempre le stesse tre classi quindi due tre una si chiama luna e infine posi adesso andiamo a metterlo nel nostro nella nostra app quindi andiamo qui nella home screen scusate andiamo qui e dobbiamo metterli nella nella screen allora abbiamo visto l'altra volta che possiamo usare il list view quando abbiamo delle list possiamo usare il list view perché perché mi serve per avere per esempio lo scroll nel caso in cui ci siano più elementi siccome qui sarà uno scroll orizzontale probabilmente non ci starà lo andremo a mettere con una list view brappiamo questo widget con un column adesso se salvo rinfresco non si vede l'hello world è andato sopra ovviamente se io metto main access alignment center a questo punto dovrebbe mettersi di nuovo il centro ma insieme con l'hello world creiamo il list view punto builder a questo punto vi ricordate l'altra volta avevamo l'items count che mi serve per definire quanti volte dovrà iterare sui item builder quindi my pets vedete ha importato i miei dati che ho già inserito punto length perché my pets è un array di pets eccolo qui e sull'item builder mettiamo context che sarebbe il build context e l'indice ora tralasceremo ancora ma fra poco noi riparleremo con il context qui possiamo mettere un text e anzi prima ancora di mettere i pets possiamo fare const pet uguale my pets aperta quadra di index ecco così non devo importarlo benissimo e quindi qui mettiamo un bel text facciamo un return di text text di pet punto name benissimo se adesso salviamo e rinfreschiamo ovviamente mi dà un errore vediamo se riusciamo a farvelo vedere mi sta dicendo che non sa come come metterlo vedete sta dicendo render viewport necessita di un layout via dicendo se vi ricordate l'altra volta per risolvere questo problema questo errore avevamo frappato il list view dentro un expanded perché? perché così espande tutto quanto l'elemento e a questo punto sa come deve gestirlo ecco qua e qui guardate questi errori cancelliamo facciamo di nuovo un altro load e gli errori non ci saranno più e abbiamo la nostra lista in realtà però vi ho detto che la voglio in orizzontale non in verticale non so che far ma in orizzontale notate dove è finito l'allow word perché mettendo expanded prende tutto lo spazio del column fino a qui fino a quando non c'è l'altro widget benissimo però noi vogliamo metterlo in orizzontale non in verticale quindi come facciamo a mettere la lista in orizzontale una delle property che ci da che ci da il list view il builder è la direction quindi su scroll direction non è scroll direction ma è axis punto orizzontale mettendoci access orizzontale adesso facciamo un reload eccoli ora non si vedono tanto facciamo una cosa un po' intanto ci mettiamo un size box 8 mettiamo 50 così lo vedremo un po' più sotto ecco qui vedete simba luna e pose quindi abbiamo fatto una lista diciamo di tipo orizzontale e possiamo qui invece di farci soltanto un text possiamo frappare questo elemento con un elemento che si chiama card card adesso ve lo faccio vedere è un diciamo è un widget che ci viene fornito sempre dentro un flutter vedete non so se si riesce a vedere ma finisce qui perché perché essendo la list view che prende tutto quanto lo spazio disponibile anche la card prende tutto quanto lo spazio disponibile ora sistemeremo anche questo problema ma no intanto abbiamo creato la card ci mettiamo una virgola così separiamo il tutto benissimo ora però vi ho già fatto vedere che solitamente per non avere troppo un'alberatura che vada sotto si separano i widget quindi andiamo a farlo subito andiamo a organizzare un attimino il nostro codice chiameremo una nuova folder widgets benissimo quindi creeremo un file che chiameremo my vabbè my pets list questo è il primo widget il secondo che andremo a chiamare sarà pet card dai allora in my pet list faremo uno stateless ecco qui e qui faremo la stessa identica cosa quindi abbiamo creato questi due widget my pets list e pet card quindi qui questo home screen andremo a separare quindi prenderemo questo pezzo lo andiamo a riportare qui quindi qui faremo un bel return non ci sarà punto la virgola ma il punto e virgola my pets dobbiamo andarlo a importare eccolo qui abbiamo importato sull'home screen qui metteremo my pet list nel pet list però qui abbiamo il card in realtà questo lo trasferiamo nel pet card quindi return card in questo modo qui abbiamo bisogno del pet lo mettiamo come position argument in maniera tale che intanto è required quindi quindi qui ci sarà un final pet andiamo a importare subito la classe pet e qui andiamo il spunto pet ottimo quindi abbiamo la card e qui return pet pet card con pet e abbiamo fatto un piccolo refactor del nostro codice dovrebbe continuare a funzionare benissimo bene allora per il momento facciamo una cosa un porto d'ossa importeremo qui negli assets adesso creiamo gli assets un'immagine per il nome animale quindi avremo un'immagine che si chiama simba un'immagine che si chiama luna un'immagine che si chiama posi quindi fermo un attimo lo sviluppo a qui poi vado nel mio pub spec pensavo di averlo già aperto invece no ora qui nel nostro testo che facciamo andiamo aggiungerci facciamo così facciamo un bel column e qui mettiamo image punto asset assets barra images barra e qui facciamo con il dollaro cosa significa il dollaro all'interno di una stringa praticamente va ad aggiungere qui del testo formattandolo in questo modo sarebbe una specie di string interpolation quasi quindi qui posso mettere pet punto name quindi avremo il nome del nostro animale punto jpg quindi qui avremo la somma per il primo per il nostro primo animale che è simba qui verrà messo simba punto jpg ad esempio poi per il secondo verrà messo luna jpg e per il terzo verrà messo posi jpg andiamo a vedere se quello che vi dico è vero andiamo a fare un refresh ovviamente mi sta dando un rendover flow perché le immagini sono particolarmente grandi quindi mettiamoci una larghezza ad esempio di 150 vediamo un po' ecco qua vedete abbiamo i miei tre i miei tre gattini e come potete vedere la list view scrolla in orizzontale vedete una delle cose che non vi ho mai fatto vedere all'interno dello scaffold è possibile metterci la barra di stato allora prima abbiamo dovuto mettere un size qui di 50 se lo tolgo via qui succede che tutto quanto viene spinto in alto vedete e va sopra i controlli sopra l'orario sopra le stato per alcune app magari può essere anche carino farlo vedere in full screen in questo modo ma noi abbiamo necessità di distanziare ora una delle cose che possiamo fare è nello scaffold metterci l'app bar cos'è l'app bar l'app bar è nient'altro che un widget che distanzierà da tutti questi controlli qui se c'è la telecamera metterà lo spazio anche per la telecamera e potremo metterci praticamente una barra di stato faccio prima farvelo vedere qui mettiamo app bar vedete è già fornito da flutter se salviamo andiamo a fare un refresh vedete ha iniziato ha già messo un bello spazio qui cosa possiamo metterci nell'app bar ad esempio come title possiamo metterci text e qui una scritta qui sarà il titolo della nostra applicazione my pet organizer ecco qua my pet organizer oltre al test my pet organizer qui c'è un'altra property molto interessante che si chiama actions ci mettiamo un icon button nell'on press ormai abbiamo capito tutti gli elementi di bottone eccetera prendono una funzione se mettonale è disabilitato e come icona in questo caso ci andiamo a mettere ad esempio l'icona di aggiunta quindi qui facciamo icons icon icons punto add se andiamo a salvare andiamo a fare un refresh ecco qui abbiamo l'icona per aggiungere animali e quindi già inizia a prendere la forma quasi di un'app normale questa questa barra vogliamo metterla di un'altezza diciamo definita come facciamo non facciamo nient'altro che cambiare l'expanded mettiamo in un container container e il container gli diciamo che ha un'altezza di 150 se salviamo abbiamo il nostro primo risultato ovviamente ogni card vedete mi sta dicendo sta andando fuori per 70 pixel qui anche posi invece l'immagine di posi è perfetta non lo vogliamo in centro ma lo vogliamo in cima prima l'avevamo messo in centro per questione soltanto di vederlo ecco qui qui abbiamo la larghezza che è 150 ma ovviamente se l'immagine è fatta in verticale lui cerca di tenere il ratio dell'immagine quindi spinge verso il basso e allora che possiamo fare per poter diciamo limitare l'altezza e mettiamo 8 150 ma 8 150 è troppo poco dovremmo mettere troppo perché ci abbiamo già è alto 150 ci abbiamo poi la scritta diciamo che la mettiamo a 100 andiamo a fare un refresh ecco vedete la card come funziona c'è questo bordino non so se lo potete apprezzare non so se lo potete non so se lo potete apprezzare non so se lo potete apprezzare non so se lo potete apprezzare